Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Sustainable Innovation for Interiors. Io sono Silvia di D4Design, studio di interior design e content creation specializzato nel design biofilico e nella sostenibilità nell'interior design. In questa serie incontriamo dei designer emergenti che stanno sviluppando soluzioni innovative e sostenibili per l'interior design e oggi incontriamo Francesco Cantini, designer e ricercatore presso il laboratorio di design per la sostenibilità dell'Università di Firenze. Quindi diamo il benvenuto a Francesco. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Silvia. Ciao, come stai? Bene, bene, ti ringrazio per avermi contattato e dato questa opportunità. Ma figurati, il piacere è mio. Allora, direi di partire con una piccola introduzione su di te come designer, sul tuo lavoro anche di ricercatore e su come hai scelto di mettere la sostenibilità al centro del tuo lavoro. Io mi laureo circa tre anni fa in design e sin dalla mia laurea magistrale mi accorgo che il tema centrale su cui voglio far vertere la mia professione e le mie ricerche personali è proprio quella della sostenibilità ambientale. La sostenibilità è un concetto molto complesso formato dalla sostenibilità sociale, ambientale, economica e sin dagli studi universitari capisco che io voglio concentrarmi su questa cosa e in particolare sul tema del design per l'economia circolare e il design dei materiali, che è un po' questa nuova tendenza da parte dei progettisti. Quindi, diciamo, la mia seconda domanda sarebbe stata appunto riguardo a quello che hai detto, appunto la sostenibilità è un tema molto ampio e quindi volevo chiederti che cosa significa per te in particolare il termine sostenibilità, ma forse hai già risposto parlando appunto di sostenibilità ambientale. Sì, diciamo che appunto il termine sostenibilità è un concetto complesso, la metafora è quella di uno sgabello a tre gambe, non sta in piedi se non è economicamente sostenibile, ambientalmente sostenibile e socialmente sostenibile. Deve essere sostenuto da questi tre pilastri affinché sia, diciamo, credibile il progetto, no? Bella questa domanda, non l'avevo mai sentita, molto calzante. Grazie. Allora, direi di allora passare a parlare del tuo progetto Endemica che analizza il tema del, diciamo, analizza il contesto del mar Mediterraneo sia come un luogo di cultura sia come una fonte di materiali. Quindi se vuoi darci una panoramica, diciamo, generale del progetto. Esatto. Allora, io condividerei lo schermo in questa fase. Ok, eccomi. Vedete il mio schermo? Sta caricando, sì, perfetto. Ecco, sì, appunto, Endemica è uno dei miei primi progetti che parla proprio di questa tematica, di design dei materiali, design per l'economia circolare, material thinking, eccetera. Ma diciamo che il punto di partenza è un altro, il punto di partenza è il mar Mediterraneo e quella che è la natura mediterranea, nel senso più ampio. Infatti, per partire, diciamo, per partire con questo progetto sono andato a fare un'analisi del mar Mediterraneo sotto vari aspetti. In primis l'ho analizzato come luogo di culture, andando a identificare tutte quelle connessioni, quelle ritualità, quelle tipicità della storia che sono talvolta sorprendentemente speculari in paesi, magari sulla riva sud e la riva nord del Mediterraneo. In secondis l'ho analizzato come bioma, quindi come luogo, come ambiente naturale dove esistono delle specie vegetali, delle specie appunto che sono caratteristiche tipiche, appunto, endemiche di tutto il bacino del Mediterraneo. Poi ho continuato con una sperimentazione materiale, quindi da queste, diciamo, risorse, da questo tipo di materiali presenti in questo luogo e da queste risorse anche immateriali. Quindi le culture sono andato a prefigurare degli scenari di materiali e poi infine a elaborare dei concept di prodotto. Tutto questo, quindi, una prima parte di ricerca delle applicazioni che poi vanno a prefigurare degli scenari futuri. Quindi appunto, Mediterraneo come luogo di culture, queste parole che ho individuato sono solo alcune, storie, diversità, connessioni, ritualità, che si possono vedere in varie produzioni tipiche di questo luogo. Si possono tracciare delle traiettorie dall'estremamente distante da noi, dall'antico, dal più che antico, al moderno, quasi al contemporaneo. Infatti ci sono molti design che riprendono le tematiche legate alla ritualità o comunque sia all'animismo di questo posto. E poi sempre appunto il rapporto con la natura e con le specie antianimali, non solo vegetali. Secondariamente, diciamo, la ricerca forse quella più interessante è quella che è andata a analizzare questo luogo, questo bioma, appunto, come luogo, come bioma, cioè il Mediterraneo come bioma. Quindi dove esistono delle specie vegetali che sono presenti sia nella riva sud che nella riva nord. Tra queste, appunto, la posidone, il cardo, il pino marittimo e il fico d'India. O alcune resine naturali che, diciamo, sono secrezioni di alcune piante come la sandracca, la colofonia o la gomma mastice. Questi tipi di materiale si trovano in gran parte del Mediterraneo e rappresentano, a mio avviso, una risorsa non sfruttata. Si pensi alla posidonia oceanica che ad ora, per dire in termini di economia circolare, rappresenta un costo per molti impianti balneari che deve rimuovere la posidonia spiaggiata appunto dai litorali per poi fare spazio, diciamo, agli impianti balneari. Ecco, il cardo, che anche questa è una specie molto presente nella riva nord del Mediterraneo e che anch'essa ha una grande capacità di biomassa. Avere grande capacità di biomassa cosa significa? Significa che ogni anno produce tanta biomassa che può diventare appunto un flusso di materiale. Il pino marittimo e il fico d'India. Il fico d'India che non è specificamente proprio Mediterraneo, deriva dall'America centrale e che però ormai ha permeato, dopo la scoperta dell'America, il paesaggio Mediterraneo e fa parte della tradizione del paesaggio Mediterraneo. Secondariamente ho analizzato appunto le resine, quindi il tetra-clinis articolata che sono delle specie che hanno, che producono delle, appunto queste resine con cui anticamente si producevano manufatti o comunque finiture o comunque si avvenivano impiegati nel settore manifatturiere e ad ora stanno scomparendo e quindi poi secondariamente ho iniziato con una sperimentazione materiale. Che cosa significa? Andando a prendere tutti questi materiali, queste biomasse, ho provato a prefigurare degli scenari di materiali, quindi possibili materiali. Quindi questa fase in che cosa ha consistito? È essenzialmente andare a prendere, a estrarre dal luogo delle piccole quantità di materiali con cui realizzare poi dei campioni. In particolare questi che vediamo sulla destra sono realizzati con una bioresina con una percentuale di origine vegetale e si sono ottenuti dei risultati particolarmente interessanti con per esempio le agropili di Posidonia, quelle che volgarmente chiamiamo le patate di mare o in altri modi. E con questa fibra corta, particolarmente corta, appunto si può creare benissimo un composito che diventa molto simile alla fibra di vetro, però di origine organica, ovviamente. Quindi le agropili fatti con la radice, con il rizoma della Posidonia e poi con la foglia altre sperimentazioni materiali con percentuali diverse di Posidonia che poi vanno a creare appunto scenari materiali per possibili arredi o rivestimenti. Secondariamente ho provato a lavorare con le resine naturali, quindi in questo caso la colofonia a scaglie che si estrae da questa specie che vi ho fatto vedere prima del Mediterraneo e la sandracca. Queste resine sono particolarmente interessanti perché hanno anche un buon odore, quindi c'è un approccio quasi sinestetico, diciamo, al progetto. Una volta che si lavora, che si scioglie questa resina per fare questi campioni, questo campione che vediamo sulla destra, si sente un buon odore, diciamo, di bosco, ecco. Di vegetazione. Come? No, dico, non avrei detto perché l'odore fosse di bosco, interessante. Sì, è interessante perché viene estratta appunto da quest'albero e si sente proprio l'odore di albero, diciamo. Quindi nella fase finale poi cosa ho fatto? Sono andato a riprendere, ho fatto un passo indietro quella che è la tradizione culturale mediterranea a cui ho attinto, diciamo, i concept per poi elaborare i prodotti fatti con quei materiali. In particolare sono andato a tingere dalla mitologia, la mitologia greca che è un po', diciamo, la sintesi della cultura mediterranea. Il mito di Posidone, in realtà, è il mito di Posidone che però trova, diciamo, figure speculari in tutte le culture mediterranee, si pensi per dire a Nettuno o per la cultura romana o eccetera. Cioè, diciamo, nelle varie culture comunque ricorre questa figura del dio del mare. A partire da questo mito, diciamo, sono andato appunto a creare, attraverso il materiale che vi ho fatto vedere prima, degli arredi. Quindi ho creato una centina, una cassaforma, e ho prodotto un pannello di materiale composito che qui vediamo la messa in opera, diciamo, la cui forma è ispirata proprio al perimetro, al periclo, si potrebbe dire, del Mediterraneo. Cioè, è una sintesi della forma del Mediterraneo, che è un po' anche la metafora del Mediterraneo. cioè, diciamo, che è sineddoche del materiale, sineddoche del Mediterraneo nella forma, quindi, sineddoche del Mediterraneo nel materiale, scusate, in quanto è una parte del Mediterraneo, l'alga di Posidonia, che ne descrive, diciamo, l'interità, e, diciamo, metafora nella forma. Cosa significa? Che l'affaccio su questo mare è sempre diverso, e, specularmente, l'affaccio su questo tavolino sarà sempre diverso e sempre eterogeneo. Se ti siedi da una parte, è diverso piuttosto che se ti siedi dall'altra, diciamo. Quindi, ecco qui, vabbè, ci sono alcune foto di dettaglio di questo prodotto, che, le cui, ad esempio, parti strutturali, la parte portante sotto le gambe, diciamo, sono incollate con una colla cervione. Quindi, ho sempre, diciamo, tutto il progetto, diciamo, porta una particolare attenzione al tema del materiale. Anche la colla, non è colla vinilica, diciamo, quelle tradizionali contemporanee, ma è la colla cervione, cioè, cosa significa? È l'antenato di origine organica della colla vinilica, quindi, non di origine polimerica, ma organica. Ecco, quindi, il tavolo presenta delle asperità, cioè un tavolo eterogeneo, è un tavolo che non è, diciamo, facilmente anche utilizzabile o comunque sia, cioè, diciamo, che quello che cerca di fare questo tipo di progetto è sollevare l'attenzione sul materiale, piuttosto che sulla funzione che ha questo tavolo. Secondariamente, ho elaborato un altro concept di prodotto, quindi è una collezione, come ben capite, ispirato al mito di Teti. Teti era una dea del mare, una nereide, il cui epiteto è generato, in greco si traduce come generata dai flutti, generata dai moti ondosi, diciamo. E questo epiteto, diciamo, crea una connessione con quella che è l'Ega Agropoli di Posidonia, quindi diciamo che la loro origine è la stessa, cioè anche queste, diciamo, patate di mare si formano proprio dallo sfilacciamento, dallo sfibramento del rizoma di Posidonia che poi con il moto ondoso va a formarsi questa sfera e poi si spiaggia. Sulla base di questo, appunto, ho prodotto uno sgabello, sempre in composito, fibra di Posidonia, in questo caso di rizoma, e bioresina con delle gambe in legno, semplice, e anche qui, diciamo, il prodotto cerca di far emergere quelle che sono le asperità e i caratteri più, diciamo, anche naturalistici del materiale. Come ultimo progetto, diciamo, come ultimo prodotto della parola di progetto, ho elaborato una lampada ispirata al mito della driade, invece, in questo caso, perché proprio la driade. La driade, diciamo, veniva identificata dagli antichi come l'anima, diciamo, che abitava le specie, gli alberi, le specie vegetali, boschi, no? E ho identificato, in questo caso, il parallelismo tra la resinazione degli alberi, quindi la resina sandracca che abbiamo visto prima e il mito delle driade. È un po' come se fosse l'anima che esce dall'albero, in questo caso. Quindi, appunto, ho provato, cioè, il carattere, diciamo, di tutto questo tipo di... di tutto questo progetto è estremamente sperimentale, cioè, si basa proprio su un alto... un altro grado di... un alto grado di sperimentazione, no? Sperimentazione molto empirica. Quindi cosa ho fatto? Ho fuso queste... queste lacrime di sandracca e ho creato un artigianale stampo rotazionale con cui poi ho creato una calotta diciamo, traslucente per fare, traslucida per creare una lampada. Il corpo della lampada, invece, è in terracotta, altro materiale tradizionale mediterraneo, con un fregio in posidonia che nella fase di cottura del manufatto va a... ovviamente si carbonizza, diciamo, e lascia un segno come un fregio, diciamo, che vediamo qui sulla sinistra. L'effetto finale è questo, quindi è un... è una lampada che, diciamo, non ha una funzione di illuminazione completa, è più una lampada, diciamo, ambientale, no? Una lampada da lettura. Come? L'atmosfera. L'atmosfera, esatto. Che però cerca di portare il focus un po' proprio sul materiale, anche qui non è tanto la luce, ma è la luce attraverso quel materiale. Ecco, e poi, niente, questo è la lampada, che è l'ultimo, diciamo, del trio di oggetti che compongono la collezione endemica, e poi, vabbè, c'è una parte di immagine coordinata, che anche questa è stata progettata nel dettaglio, quindi un logo, e poi, vabbè, dei colori per, diciamo, chiudere il cerchio sulla collezione proposta. quindi questo, diciamo, è il mio progetto endemica, che è forse, diciamo, il battesimo nel mondo del design da parte mia. Direi, se questo è il battesimo, voglio vedere quello che verrà in futuro. Molto, molto interessante. Bene, interrompo la condivisione. Sì, sì. Allora, riguardo appunto ai prodotti che mi hai fatto vedere, guardando sul tuo sito, cito quello che dici, che uno degli obiettivi del progetto è creare un nuovo linguaggio, una nuova estetica per questi materiali, distorcendo i canoni contemporanei del design. E quindi mi chiedevo, da una parte cosa ti ha guidato a creare questa nuova estetica, e dall'altra parte, se trovi che questa estetica che tu hai sviluppato sia compatibile con l'estetica invece più tradizionale, diciamo contemporanea, oppure se pensi che non siano compatibili. Perché io ho una mia idea, ma voglio sentire la tua. No, io penso che questo tipo di estetica sia perfettamente compatibile con il contemporaneo. Si assiste, diciamo, negli ultimi anni un po' a un ritorno di questa matericità, di questa estetica non industriale, diciamo comunque con le asperità, con le venature, diciamo, a vista, in cui si capisce, si percepisce di cosa è fatto questo materiale. E è sempre stato così, è sempre stato così. L'unica, diciamo, piccola finestra in cui non è stato così, verrebbe da dire che è la fase dell'industrializzazione, quindi dagli anni 40, 50, 60, in poi, siamo andati incontro a una, diciamo, omologazione delle superfici, omologazione dei linguaggi, quindi le superfici plastiche, le superfici dal colore neutro, quasi smaterializzato, che non si capisce, no? che uno spesso si trova davanti a un oggetto rivestito in, non lo so, laminati vari e non sente, non capisce cosa è. Invece ora si sta assistendo a un ritorno, a far parlare gli oggetti attraverso la superficie, attraverso il materiale, diciamo. Sono molto d'accordo. Allora, sì, la prossima domanda era, allora, sul fatto che appunto questo progetto, nel suo forte legame con il Mar Mediterraneo, è anche un modo per sottolineare quanto è importante il legame tra la sostenibilità e il concetto di località. È qualcosa che era voluto nel progetto, è nato, diciamo, come parte del progetto o si è sviluppato dopo? No, no, certo, no, è stata, cioè, diciamo che il concetto di sostenibilità per me è proprio strettamente legato al territorio, al luogo, cioè, ciò che è sostenibile qui non è sostenibile là, per usare una metafora, cioè, nel senso, ogni luogo ha le sue specificità, ogni luogo ha i suoi flussi di materia e energia, quindi, ogni luogo ha le sue anche conoscenze, competenze, ci sono, determinante maestranze, determinate anche conoscenze tradizionali, quindi, tutte le volte che si progetta, per me, bisognerebbe, proprio, prima di tutto, fare una profonda analisi del capitale territoriale, capitale territoriale e capitale naturale, quindi, una profonda analisi desk, proprio incentrata su quali sono i flussi. Quando si parla, no, di economia, design per l'economia circolare, si parla proprio di questo, cioè di connettersi ai flussi di materia e energia locale, cioè ciò che è ecologico qua, cioè che è più sostenibile qui, dove sono io, ora, a Firenze, non sarà, sarà un po' meno sostenibile magari a Milano, quindi, è importante, diciamo, approfondire il carattere della località, secondo me, del localismo, ecco. Sono di nuovo molto d'accordo, mi ripeto, ma, allora, quindi questo progetto è nato assolutamente come un progetto sperimentale, però, ci sono, hai dei piani in programma, magari in futuro, di metterlo magari sul mercato, di rendere la produzione scalabile, anche rispetto a quello che dicevi prima, che per esempio la Posidonia è una, diciamo, un materiale proprio di scarto per quello che riguarda gli impianti balneari, eccetera, quindi, oggettivamente, c'è uno spazio per utilizzarla in modo più silenzio. sì, infatti, cioè, diciamo che il tema può essere ulteriormente ampliato e portato altrove. Io, diciamo che il mio obiettivo era quello più di sollevare la tematica, e poi credo molto anche nel, un po' nell'open source, nel, nel non chiudere io a brevettare o a mettere, diciamo, la firma su questa cosa, ma quando nella parte iniziale della presentazione c'era la freccia che andava verso l'esterno e diceva scenari futuri, ecco, quello per me sono i gli eventuali proseliti, non so, le persone che riprenderanno quel, questo tema e lo porteranno altrove. Per me quell'esperienza, diciamo, si chiude lì. La mia ricerca è comunque un work in progress, ma non ho intenzione di, come personalmente, di portarlo altrove. Quello che spero è di far, diciamo, di influenzare e di far partire altre, altre persone, quindi start-up o progetti anche di carattere meno sperimentale e più concreto, proprio a partire dalla, dalla mia ricerca, mi farebbe veramente felice. Questo è un bellissimo approccio, tra l'altro, perché, sì, perché appunto il fatto di trasformare un progetto sperimentale in qualcosa che va sul mercato non è l'unica via e quindi, come dici tu, appunto, il fatto che un'idea possa poi essere ripresa da qualcun altro può aprire altre prospettive, anche tra te e quest'altra persona o altra entità può nascere un confronto, quindi è un bellissimo piano comunque quello che hai, anche se l'obiettivo non è quello di di andare sul mercato, diciamo. La prossima domanda è più generica, mi interessa sempre sapere se questo anno passato di pandemia ha aperto qualche scenario diverso nel tuo lavoro, qualche opportunità, ha generato qualche idea che non sarebbe nata altrimenti o forse sarebbe nata in un'altra situazione oppure è stato più un momento di stallo purtroppo vista la situazione? Ma diciamo che come progettista è stato forse un momento per riflettere, questo è un luogo comune però è tanto comune quanto vero, è stato un momento anche per diciamo a livello professionale proprio di tirare un po' fare sintesi e capire veramente cosa ti interessa e cosa vuoi portare avanti, cosa vuoi lasciare indietro, ecco questo. Però se devo dire che in quella fase ho diciamo imparato, ho avuto delle grandi lezioni per quanto riguarda la mia professione non potrei dire sì, cioè non saprei, senz'altro è stato un momento per fare di grande introspezione per capire anche dove andare a fondo e quale direzione diciamo dare alla professione che faccio che è quella poi del progettista. Che forse è anche qualcosa di positivo in realtà vedendolo da un altro punto di vista perché nel nostro mondo in cui siamo sempre di corsa forse avere questo momento di pausa forzata per appunto per avere un momento di introspezione forse non è così male. Esatto, sì sì sì, è un momento per fare sintesi, un'occasione per fare sintesi. La prossima domanda è la domanda che faccio un po' a tutti perché appunto nel momento storico in cui viviamo c'è un urgente bisogno di sviluppo sostenibile in tutti gli ambiti secondo te nell'ambito del design che cosa potrebbe o facilitare o rendere più veloce questo cambiamento a livello appunto di industria di settore? Una bella domanda quindi che cosa potrebbe rendere diciamo più facile la transizione ecologica quindi lo sviluppo sostenibile delle imprese io penso che molto banalmente sia anche un po' il mondo della politica il mondo di come diciamo si veicolano i finanziamenti i finanziamenti e cosa premiare e cosa non premiare cioè stabilire un dei dei principi di premialità appunto che valorizzino le ricerche più anche spinte più sperimentali sul sul settore del del design per lo sviluppo sostenibile quindi io penso che devono essere anche un po' i designer cioè dobbiamo essere anche un po' noi che andiamo ad approfondire quei concetti non aspettare che diciamo ci piovano addosso quindi non voglio fare quello che dice vabbè ma non siamo pagati non siamo pagati abbastanza cioè dobbiamo anche noi andare a fare ricerca andare a approfondire le tematiche per non lo so quali sono gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile che sembra una cosa banale ma non tutti approfondiscono quelle tematiche quindi io ribalto un po' la domanda forse dobbiamo essere noi che dobbiamo interessarci di più a quel a quel mondo e andare più in profondità a perdere diciamo un po' il carattere di anche superficialità ma andare più a fondo ecco sulle tematiche per fare dei progetti veramente efficaci vero e in questo secondo me appunto è molto un buon esempio il tuo progetto che appunto ha molto puntato sul appunto sul senso di località sul fatto che la sostenibilità non è la stessa cosa in tutti i luoghi e quindi che appunto come dici tu bisogna andare necessariamente in in profondità sotto diversi punti di vista per fare qualcosa che sia sostenibile davvero esatto sono molto d'accordo quindi il nostro tempo è già quasi scaduto quindi l'ultima notizia l'ultima notizia no l'ultima domanda quali sono i tuoi prossimi progetti nel tuo percorso appunto di ricerca e di approfondimento di questa tematica della sostenibilità se c'è qualcosa che ci puoi anticipare esatto allora io appunto lavoro come vi ho detto al laboratorio di design per la sostenibilità sono ricercatore lì e sto diciamo portando avanti dei progetti sempre non diciamo proprio miei ma legati al mio gruppo di ricerca al mio team di laboratorio proprio su questi temi quindi sul rapporto per esempio tra design e natura tra design e natura a più livelli cosa significa che quindi c'è una parte più legata ai materiali biogenerati si potrebbe dire quindi pensiamo al al micelio alle sperimentazioni di materiale col micelio o a quelle con i batteri piuttosto che appunto al rapporto tra design e natura però più sul piano di bioispirazione quindi biomimesi eccetera diciamo che i prossimi progetti sono legati a queste sempre a queste tematiche quindi il rapporto tra design e natura io non vedo l'ora di vederli bene allora grazie mille del tuo tempo è stata veramente una bellissima intervista è stato bello scoprire di più del tuo percorso del tuo progetto perché l'avevo visto sul tuo sito però sentirlo spiegato da te è sempre più sì più in dettaglio insomma grazie grazie a voi che ci avete sentito vi aspetto nella prossima puntata di Sustainable Innovation for Interiors e fino ad allora ciao alla prossima ciao ciao Francesco grazie grazie a tutti grazie a tutti